Parte questa digressione di reddere subito la parola a Luciano Nebbia di Intesa San Paolo che ringrazio nuovamente anche per il sostegno all'iniziativa. Grazie agli organizzatori, sempre puntualissimi in questa giornata, dove i temi del rapporto banca-consorzio di garanzia e io ci metto anche i clienti è sempre un tema caldo, è sempre un tema bello vivo, ma direi più vivo che mai per certi versi. Prima di farvi vedere alcuni numeri nostri e spiegarvi un attimino un po' le strategie del nostro gruppo, volevo fare due commenti un po' a caldo su quello che stiamo un po' tutti vivendo, anche dal mondo soprattutto delle banche. Noi veniamo da anni difficili, come tutti del resto, nessuno escluso, anni dove probabilmente tutto quello che è stato fatto, io dico in buona fede, per cercare di portare credito, di portare in qualche modo sostanza a molte iniziative, soprattutto delle PMI, visto anche l'attività svolta prevalentemente dai consorzi di garanzia. Siamo in un momento dove tutte queste cose sono state in qualche modo scoperte, scoperte nel senso che abbiamo trovato probabilmente in fondo a tante attività, a tanta collaborazione, abbiamo trovato qualcosa che chiaramente forse andava fatto in un modo diverso, non dico meglio o peggio, dico in modo diverso. E quindi chiaramente la prima grande riflessione che viene subito in mente è quello di capire che ruolo le banche oggi potranno e dovranno in qualche modo, in qualche misura, giocare nei confronti sia dei consorzi sia proprio anche delle clientele. Parto da una piccola riflessione per quanto riguarda i due blocchi che caratterizzano un po' tutto il mondo, sia della società dei servizi sia anche delle società manufatturiere. Quello dell'attività del business è quello dell'organizzazione. Se noi andiamo a vedere cosa è successo in fatto di business, i cambiamenti fatti sul business delle banche e quindi anche della nostra clientela e i cambiamenti fatti nelle organizzazioni delle banche e anche delle nostre aziende clienti, noi troviamo delle differenze enormi in questi due o tre anni. Cioè pensare che una banca come il nostro gruppo tenga aperto fino alle 8 di sera le filiali e apre il sabato mattina così to cure, vi dico che è un cambiamento di un certo tipo. Allora perché vi dico questo? Perché probabilmente dietro questi grandi change di business e di organizzazione c'è il cambio del mestiere delle persone. Noi stiamo vivendo in questi ultimi due o tre anni in moltissimi casi proprio il cambiamento del mestiere a cui uno era probabilmente sempre abituato nel tempo a svolgere. E quindi questo mi piace dirlo perché probabilmente anche nei consorsi, cioè chi ci lavora nei consorsi di garanzia, chi ha una responsabilità, chi è nel consiglio, chi è nella struttura organizzativa, quella che vive veramente giorno per giorno le varie attività, probabilmente io penso che queste persone si siano trovate a fare un mestiere oggi forse diverso rispetto a quello di qualche tempo fa. Ecco, parto di lì perché io penso che bisogna in modo molto pragmatico, molto pragmatico, oggi ritrovare un passo, ritrovare una linea che ci veda uniti, non separati. Qua non c'è un problema di Stato se dà le garanzie o non dà le garanzie, in che misura le dà o con quale regole le dà. Qua non c'è il tema di dire che le banche, anche qua una distinzione va comunque per precisione fatta, fra le banche che hanno sistemi avanzati di calcolo del rating e banche che magari sono rimaste prevalentemente su un concetto di standard, di standardizzazione della valutazione del rischio. E' chiaro che parliamo oggi, parliamo di una necessità che anche il sistema delle banche, che ha bisogno di riprendere in qualche modo un passo deciso per quanto riguarda l'attività di credito, ecco, c'è bisogno di trovare una quadratura, una soluzione, ma in modo disincantato. Cioè dire che oggi le banche hanno bisogno di vedere valore le garanzie, perché vuol dire meno capitale, vuol dire un RWA chiaramente più contenuto, vuol dire anche avere un costo per il cliente più basso, cioè più io riesco a migliorare il rating al mio cliente e la forma della garanzia, chiaramente con le regole di Basilea, insomma, aiuta parecchio, per capirci bene. E' chiaro che tutte queste linee di comportamento vanno in qualche modo agite, non vanno solo diciamo annunciate, pensate, ma non agite. Quindi è opportuno, io ritengo che sia opportuno ritrovare in qualche modo un modus operandi. Le forme, mi pare, anche stamattina sono state elencate, anche adesso Alessandro Tappi ne ha già elencate qualcuna di importante. Cioè bisogna arrivare a far sì che questa garanzia oggi abbia un valore, perché oggi, piaccia o non piaccia, il sistema bancario è molto interessato a che questo valore venga fuori, cioè che non venga solo scritto, annunciato, che faccia parte di accordi commerciali, che faccia parte di linee. Cioè noi abbiamo bisogno oggi che quello che viene scritto abbia un valore, punto. E lì dobbiamo lavorarci, dobbiamo sforzarci di trovare probabilmente delle soluzioni. Io mi offido proprio a questi cambiamenti, di cui dicevo prima, probabilmente anche di mestieri da parte di ognuno di noi, in qualche modo questo sforzo di intelligenza, non dico di creatività che sarebbe troppo, ma di veramente andare a prendere, andare a mettere insieme, andare a coniugare tutto quello che può essere di aiuto per mettere in sicurezza a volte alcune aziende, a costruire dei portafogli anche di credito delle varie banche che abbiano un senso per portarli fuori, portarli sugli investitori, portarli in qualche modo così, alla luce del sole, ma alla luce anche di una comunità finanziaria internazionale che oggi non riconosce ancora alcune attività tipiche, tradizionali del fare credito da parte delle banche. Cioè questo è lo sforzo che noi tutti dobbiamo fare. Quindi ecco la possibilità diciamo di trovare in qualche modo, ma anche velocemente io dico, anche velocemente, noi abbiamo dei problemi, abbiamo dei problemi spesse volte, noi abbiamo i nostri colleghi, i nostri colleghi che seguono tutta la parte deteriorato, problematica, poi ogni banca ce la chiama come vuole, noi abbiamo tantissimi problemi a volte perché abbiamo dei consorsi, e chiaramente i presenti ben conoscono, dei consorsi che magari non sono in grado di soddisfare quello che è stato siglato, che è stato assicurato nel tempo come garanzia ad una banca, ad un istituto di credito. Quindi noi viviamo, abbiamo sulla nostra pelle queste telefonate, abbiamo sulla nostra pelle rapporti che sono durati per tantissimo tempo, splendidi, rapporti splendidi. Guardate che spesse volte il consorzio di garanzia è stata la mano armata commerciale dalle banche. Quante volte abbiamo fatto plafon, abbiamo aperto delle linee e questo serviva alle banche stesse per fare commerciale, perché aprivamo nuovi conti, facevamo nuovi fidi, cioè che magari la struttura di filiale di una banca su un territorio non riusciva in qualche modo ad assicurare. Quindi non dimentichiamo il grande valore che c'è stato anche nel tempo da parte dei consorsi in questa direzione. Però oggi dobbiamo fare i conti con quello che c'è, con quello che abbiamo. E probabilmente su alcuni fronti, in quello che c'è di patrimonio probabilmente è stato eroso tanto. Oggi abbiamo problemi, quando andiamo a vedere i patrimoni di molti consorzi di garanzia, ahimè lì ci fermiamo forse al primo angolo di strada. Quindi dobbiamo in qualche modo tenere presente che questo tipo di fotografia che oggi i consorsi ci danno sono spesse volte, cioè vediamo dei contorni che non sono così belli nitidi. E questo non aiuta anche chi fa il nostro lavoro. Non aiuta perché probabilmente vuol dire che su quel consorzio, sulle garanzie che sono ancora in essere... Io cerco di portare un tema un po' sul pratico Lorenzo, perché altrimenti facciamo tutte le nostre belle dichiarazioni e poi chi si è visto si è visto. Scusate, ma penso che sia più importante arrivare su questi temi che non su altro. Quindi noi dobbiamo in qualche modo trovare una soluzione, trovare una soluzione che accompagni, che valorizzi ancora le garanzie che ci sono in essere da parte di molti consorzi di garanzie sui portafogli della banca. Quindi noi abbiamo bisogno, noi stiamo nel nostro interno, nel nostro interno, guardate vi metto solo una slide perché meno vi da i numeri di cosa parliamo per quanto riguarda il nostro gruppo, 4 miliardi e 9 sono i finanziamenti oggi assistiti da garanzie, le posizioni in boni il 79%, questo 21% è tanta roba, vuol dire che 1 su 5 ha dei problemi, 1 su 5 rischia di andare a scrivere lettere di richiesta di copertura per la garanzia rilasciata. Poi quel 21% probabilmente scenderà al 10, 12, 13%, ma incominciamo a parlare di numeri importanti, vuol dire che se fossi solo il 10% che vanno in default, voi sapete che abbiamo delle medie, abbiamo dei tassi oggi di decadimento sulle sofferenze che in alcune regioni vanno oltre il 10%, quindi parliamo di numeri. Se noi facessimo il 10% di 4 miliardi e 9 vuol dire che noi dovremmo andare a chiedere 500 milioni di garanzie al sistema dei consorzi. Comunque il mondo va avanti, insomma nel 2013 abbiamo fatto 2 miliardi e 3, praticamente con oltre 200 consorzi. Io mi ricordo qualche anno fa che qua si era fatta la conta, adesso io non ce l'ho più, ma si parlava di più di 600 consorzi di garanzia esistenti in Italia, se non ricordo male. Quindi vuol dire che probabilmente già il nostro gruppo, uno su tre, lo tiene e due su tre in qualche modo incomincia ad analizzare che non ci siamo, che ci sono delle difficoltà. Teniamo presente che se poi andiamo a vedere i primi 15 garantiscono il 70% delle nuove regolazioni. Allora, ecco, dov'è questa attività che noi possiamo... Perché qua c'è un discorso di tattica e poi un discorso di strategia. La tattica, noi dobbiamo in qualche modo oggi cercare di difendere il più possibile le garanzie che sono state rilasciate e cercare di accompagnare, cercare di, scusate se lo dico, di aiutare addirittura il consorzio a valorizzare altre forme di valore che può avere un'azienda, che può avere un'azienda che ha beneficiato di una garanzia del consorzio. Quindi questa è tutta un'attività che oggi gruppi come il nostro chiaramente sono in grado di fare, di accompagnare. Dopodiché bisogna anche capire bene, andare a cogliere i primi segnali di allarme. Non possiamo aspettare 18 mesi per capire se un consorzio di garanzia ha cambiato rating o se un consorzio di garanzia ha dei problemi. Noi qua dobbiamo trovare degli elementi rapidi, veloci, di valutazione anche dei consorzi. Questo si può fare. Abbiamo già anche qua valorizzato alcune iniziative dove si va a vedere in base ai settori, in base alla tipologia magari anche territoriale, regionale, di capire in quale rapporto si muove la garanzia rilasciata. E questo è un aspetto chiaramente di tattica di brevissimo tempo perché dobbiamo farlo. Non possiamo pensare che abbiamo ricevuto la garanzia e adesso lasciamo andare e andiamo a vedere cosa succederà. Questo non vale, non vale perché è anche l'interesse, ve lo sicuro, fortissimo oggi delle banche di avere un portafoglio che in qualche modo sia valorizzabile in positivo. Noi probabilmente cercheremo anche di modificare entro l'anno, chiaramente col benestare poi di Banca d'Italia, quale è proprio la struttura del rating nostro come gruppo in Tesa San Paolo. Perché non è che possiamo decidere noi da soli. Ecco, però sicuramente alcuni elementi minimi, positivi, che oggi, cioè andare un po' con un concetto di anticiclicità, no? Ci sono degli elementi oggi che chiaramente possono essere utilizzati in modo favorevole. Ne cito uno su tutti, no? Nel nostro gruppo se uno ha dei cassi integrati per noi oggi è un meno. Cioè avere dei cassi integrati o fare un piano di ristrutturazione in molti casi può essere invece un più, no? Cioè quanti piani di ristrutturazione vi hanno noi che in qualche modo stiamo affrontando tutti. Quindi non è escluso che uno degli elementi, ripeto, con un segno meno diventi addirittura con un segno positivo. Perché vi dico tutte queste cose? Perché c'è ancora una grande attività da fare nel raccordo banca e consorzio di garanzia, che va verso la parte qualitativa, no? Per molto tempo, noi abbiamo considerato per molto tempo e forse ancora in parte oggi da parte di molti gruppi bancari, l'aspetto quantitativo come elemento unico di valutazione per arrivare a un rating, no? Quello che invece stiamo cercando tutti, no? In qualche modo di mettere in campo è di valorizzare questo aspetto qualitativo che i gruppi che hanno il modello avanzato possono agire, no? Cioè se io riesco a dimostrare nella mia relazione, nella mia valutazione, che esistono degli elementi qualitativi tali da poter fare un override su quel cliente, probabilmente io faccio un piacere sicuramente alla mia banca, ma faccio un piacere anche al cliente perché vuol dire che scatta anche un prezzo diverso, vuol dire che c'è un minore assorbimento, vuol dire che c'è qualcosa che funziona. Allora tutti questi aspetti qua, quel concetto di cambio di mestiere, io vedo un ruolo importantissimo da parte dei consorzi di garanzia, io lavorerei su questo fronte, cioè il mio consorzio di garanzia, che tipo di valore aggiunto può dare ad un gestore di una filiale che sta valutando un artigiano, che sta valutando una piccola azienda, no? Cioè io penso che sia un qualcosa che va, è lì che dobbiamo arrivare, cioè dobbiamo valorizzare non solo la capacità di mettere insieme un plafone, di andare sul mercato, di dire se vieni con me ti assicuro, ti aiuto ad avere credito. Io penso che oggi noi abbiamo bisogno, perché i nostri uomini, pertanto bravi, pertanto che stiano crescendo, non saranno mai in grado di occupare la parte qualitativa di decine di migliaia di aziende. Cioè questo è uno dei temi fondamentali. Noi abbiamo, questa è probabilmente un qualcosa che aiuterà, aiuta anche nel futuro a trovare un passo, un passo vincente di collaborazione fra quello che può essere l'attività tipica di una banca commerciale, che quindi vive il territorio, e un mondo di imprese che in qualche modo faticano. Noi abbiamo avviato un progetto, penso che uscirà domani una, e qua mi limito per tre secondi alla Toscana, ma è già partito, è già partito in Umbra, partiremo nel Lazio e partiremo anche sulla Sardegna, che è la parte che diciamo che mi tocca. Noi partiremo con un progetto dove andremo a cogliere chi sono le aziende campioni, e guardate che ci sono, in Toscana ve lo dico perché lo so già, quindi ci sono più di 3.000 aziende campioni. Campioni cosa vuol dire? Che dal 2008 ad oggi hanno aumentato l'EBIDA, hanno aumentato il fatturato, hanno fatto investimenti, hanno fatto innovazione, hanno fatto, quindi attenzione che dentro a questo marasma di difficoltà ci sono delle aziende incredibilmente brave. Allora cosa andremo a fare? Andremo a studiarle queste aziende, andremo a capire quali sono gli elementi vincenti, perché abbiamo una necessità enorme, enorme, di tirare tutto il resto, tutte le altre migliaia di aziende che vivono il territorio, e che magari aspettano, non dico un aiuto, aspettano un segnale, un segnale positivo, una capacità magari nuova di fare un business plan, una capacità di confrontarsi nell'ambito del proprio settore, cosa fanno i miei, cosa fanno i suoi concorrenti, cosa fanno, cioè c'è un tema di qualità che manca, di qualità da scrivere, da mettere in evidenza. Ecco, parlando anche qua di tattica, oppure introducendo anche un tema di strategia, cosa ci può stare dietro a un rapporto oggi nuovo, tra virgolette, fra un consorzio di garanzia, un confidi e una banca. Quindi il resto poi, io sono convinto, perché, insomma, l'abbiamo sentito prima, diciamo dal dottor Tappi, cioè, i transi scovere, che ci sia un interesse dello Stato, in qualche modo, a trovare, ad avvicinare le parti, ci sarà. Poi sappiamo che probabilmente questi fondi, a un certo punto, finiranno, e poi magari qualcuno ne rimetterà ancora. Ora, il Fondo Centrale di Garanzia è stato forse l'unico, diciamo, anche col governo Monti, con Passera, e lo so, perché con Passera magari un po' ha avuto a che fare, no? Cioè, è stata una delle poche attività che sono state rifinanziate, il Fondo Centrale di Garanzia, è stata una delle attività. Quindi, uguale, chiudo, perché se no starei qua ancora di più a spiegare. Il tema oggi è un tema serio, che va affrontato, è un tema che comunque non si può lasciare al caso. Quindi, io mi auguro che si possa trovare, che ci si possa spingere in quella direzione, in modo tale che ci possa essere un futuro, sia per i consorzi e anche per il nostro lavoro di banca. Grazie a Luciano Nebbia, cerco di recuperare un po', che siamo in leggero ritardo con i tempi, do subito la parola, seguendo la scaletta, a Giuseppe Sapienza e a Roberto Ramondi, anticipando che poi l'intervento successivo di Cristiano Vincenzi vedrà proprio un'applicazione pratica della casistica proposta poco fa da Alessandro Tappi. Grazie. 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 Grazie.